vengo guarda il postino non apri la porta alle multe porta le multe ma dopo non me ne frega niente stai in macchina male non me ne frega niente ho pagato 6.000 euro di multe non può arrivare una multa tutti i giorni tutti i giorni sta facendo il suo lavoro non me ne frega niente non aprirli cavolo ancora sta suonando guarda che si diverte guarda che lui si diverte a portare le multe mamma chi era? ma era il postino mi ha portato il pacco? no non gli ho ma che pacco? quello di amazon ma come non gli ho aperto? perché? ma perché perché che cosa ne basta comprare ste cose su amazon basta parla parla Grazie.